La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha concluso un'articolata indagine nel settore della prevenzione e repressione dei traffici illeciti, svolti anche utilizzando una nota piattaforma di messaggistica. Le indagini condotte sotto la direzione della Procura della Repubblica di Caltanissetta hanno consentito di individuare una serie di gruppi costituiti sulla nota piattaforma attivi su tutto il territorio nazionale, attraverso i quali venivano proposti acquisti di stupefacenti quali eroina, cocaina e grass, meglio nota come la droga dello stupro. I prodotti venivano proposti e messi in vendita anche attraverso la pubblicazione di foto e video, corredati dalla recensione di numerosi clienti anonimi e i relativi pagamenti perfezionati mediante criptovalute al fine di limitarne la tracciabilità. L'attività svolta dalle fiamme gialle nissene ha preso le mosse da alcuni sequestri di piccoli quantitativi di sostanze stupefacenti e da tali evidenze si è arrivata ad individuare le piazze di spaccio virtuali attraverso delicata attività di impedinamento tecnologico alla ricerca delle evidenze digitali che consentissero l'individuazione dei gruppi telematici che operano nel mercato illegale. A conclusione delle attività il GIP di Caltanissetta su richiesta della procura della Repubblica nissena ha emesso un decreto di sequestro e contestuale chiusura di 11 canali della nota piattaforma dedicati ai traffici illeciti che inoltre proponevano anche la vendita di armi e banconote false.